Buona serata, benvenuti a tutti in questo spazio dedicato alla Confcommercio Pesaro Urbino, uno spazio di approfondimento. Abbiamo con noi il direttore Amerigo Varotti. Benvenuto Amerigo. Grazie. Ormai Amerigo è amico di Rossini TV e sempre in prima linea quando si parla appunto degli associati della Confcommercio e soprattutto per aiutare queste aziende ad andare avanti e superare questo periodo terribile che abbiamo vissuto. Quindi io inizierei da questo, cioè farei proprio una panoramica. Amerigo, su come stanno andando le aziende dei vostri associati? Sì, grazie. Intanto noi siamo molto attenti anche a realtà imprenditoriali importanti come il caso di Rossini TV. Grazie. Che in pochi anni ha raggiunto livelli di professionalità eccezionale e quindi ci piace essere presenti in questa emittente. Il mondo del commercio, il mondo delle nostre imprese è ovviamente un mondo in gravi difficoltà. Questi due anni di, ormai due anni insomma, di crisi economica derivante dalla pandemia da Covid ha messo in ginocchio molte imprese soprattutto nel settore del commercio e nel settore del turismo. Molte aziende sono state costrette a chiudere per lungo tempo, penso al mondo della ristorazione. Tante aziende, anche se non sono state obbligate a chiudere, di fatto lo erano, penso al mondo del turismo, perché negli alberghi quando non c'erano i flussi turistici, quando anche le barriere tra paesi impedivano i movimenti turistici, difficoltà enormi. Adesso c'è stata una sostanziale ripresa delle attività economiche, soprattutto nel mondo del turismo e della ristorazione. Quest'estate è stata un'estate assolutamente positiva. Certo, anche a livello climatico. Anche a livello climatico, speriamo che continui, perché noi diciamo sempre che il turismo è 365 giorni all'anno, non dobbiamo e non possiamo più limitarci come si faceva 20 anni fa alla stagione, questo lo possono fare i bagnini, ma le attività economiche, i ristoranti, i alberghi, le imprese commerciali, le imprese dei servizi hanno necessità di fare bilanci e verifiche annuali. Quindi l'estate è andata bene, però vedremo se il buon andamento dell'estate è riuscito a compensare le gravi difficoltà della primavera. Il mondo del commercio, peraltro, nella nostra provincia vive altre problematiche, perché c'è la crisi derivante dal Covid, ma c'è anche una crisi strutturale, dovuta un po' all'impoverimento economico della nostra provincia, dovuta alle tante chiusure di aziende nel settore manifatturiero, dovuta a una crisi occupazionale che, come spesso denunciano i sindacati, si fa sentire molto forte nella nostra provincia rispetto ad altre province o ad altri paesi. Vedi, io i giorni scorsi ero a Padova per un'iniziativa turistica e ho notato con piacere la vitalità commerciale della città. Vero è che è una città di 200 mila abitanti, vero è che c'è una importante università, ma ho riscontrato quello che a Peso faccio fatica a ritrovare, cioè una rete commerciale di negozi gestiti da padovani, di non franchising, di negozi anche di qualità, una vitalità nei bar, nei ristoranti, nel movimento cittadino, che purtroppo a Pesaro non c'è più, non vedo più a Pesaro, ma anche a Fano, insomma nelle città più importanti. Allora questo mi ha fatto ripensare a quello che è successo nell'economia della nostra provincia in questi anni, con le chiusure di tante aziende, ripeto, del manifatturiero, del settore edilizio, che ha comportato la diminuzione dei redditi delle famiglie e questo ovviamente ha avuto delle ripercussioni sulla rete commerciale, una rete commerciale che poi è ancora più in difficoltà anche per la presenza di tante strutture della grande distribuzione, che peraltro anche nella vicina provincia di Rimini o addirittura adesso anche nella Repubblica di San Marino con nuove aperture, outlet, centri commerciali, supermercati, perché insomma ce ne saranno altri. Anche a Pesaro è stata concessa di fatto l'autorizzazione per un nuovo supermercato, questo rischia di far morire nuove altre attività. Su questo come Commercio noi ovviamente come tu dicevi siamo molto attenti anche nel fornire assistenza e servizi alle nostre imprese, sempre servizi più innovativi che vanno dall'assistenza al credito, quindi per dare informazioni e sostegno per l'accesso ai finanziamenti agevolati o ordinari o con convenzioni con diversi partner che assicurano alle imprese risparmi sui costi di gestione, che credo che sia la cosa più opportuna da fare in questo momento. Sì, infatti Amerigo volevo interromperti perché anche noi come Rossini TV stiamo usufruendo di alcuni fondi, i fondi forti, che altrimenti solo grazie a Commercio abbiamo intercettato e ancora intercetteremo, quindi avremo dei corsi gratuiti completamente che andranno a rafforzare il nostro team, la nostra squadra, ma senza il vostro aiuto noi non avremmo mai saputo di questi fondi perché sono tante le possibilità per le aziende, ma a volte da soli, insomma con le proprie forze non si può arrivare dappertutto a conoscere tutte queste cose, mentre voi avete un team, uno staff di professionisti sempre attenti su queste tematiche, quindi fate un bel lavoro. La forza dell'organizzazione è quella di offrire alle imprese servizi e consulenze a 360 gradi, ci sono dei servizi tradizionali che come io dico offrono un po' tutti, ma poi ci sono invece dei servizi innovativi che solo un'associazione strutturata come la Commercio può erogare, è fatto riferimento a Forte, quindi i fondi interprofessionali che consentono alle imprese di ottenere una formazione gratuita per i propri collaboratori, aziendale o territoriale che sia, abbiamo realizzato in questi anni anche l'Istituto Tecnico Superiore per il Turismo che fa alta formazione nel campo del turismo, gratuita, sono corsi biennali, post laurea o post diploma e siamo solo noi nella regione Marche ad avere fatto una cosa del genere, che fornisce personale qualificato alle imprese, ma poi gli esempi potrebbero essere tanti e le convenzioni assicurative e gli enti bilaterali che abbiamo costituito con i sindacati, anche su questo un riferimento, noi l'anno scorso abbiamo erogato più di 200 mila Euro di contributi a fondo perduto a lavoratori e imprese, le imprese che hanno avuto dei costi per adeguarsi alle normative anti Covid e i lavoratori che hanno perso parte della retribuzione a causa delle chiusure delle imprese, delle sospensioni dal lavoro, oltre 200 mila Euro a fondo perduto, non mi risulta che ci siano altre strutture nella nostra provincia, ma oserei dire nella nostra regione che hanno messo in campo tante risorse a favore dei propri associati, a favore dei lavoratori, delle imprese associate, quindi il mondo delle associazioni è un mondo che va scoperto, lo dico a tutte le imprese, ancora c'è chi immagina le associazioni come un residuo del passato, politicizzate, che fanno solamente chiacchiere, che fanno solamente politica, le associazioni non sono più questo, tantomeno la Confcommercio, siamo una struttura che eroga servizi a 360 gradi all'impresa, per aiutare le imprese a sopravvivere, a vivere e a svilupparsi, anche i rapporti istituzionali che abbiamo creato nel corso degli anni con la regione, con le amministrazioni, io penso anche a Pesaro, con l'amministrazione comunale di Pesaro, così anche con Fano, ma anche con altre realtà, il fatto di essere riusciti insieme a condividere un percorso che ha messo in campo risorse importanti, Pesaro ha messo in campo più di 500 mila Euro di aiuti, di contributi a fondo perduto alle nostre imprese, è il risultato di un rapporto, di un dialogo, di un confronto che l'associazione ha portato avanti con l'amministrazione comunale e è una delle cose che noi facciamo, poi dopo ovviamente mettiamo in campo altre iniziative di promozione, perché siamo convinti che anche la realtà commerciale della città, le imprese dell'artigianato e dei servizi possono vivere meglio, possono svilupparsi se c'è un'attività turistica fiorente, da qui il nostro impegno nella promozione turistica. Adesso vorrei proprio parlare, Amerigo, del vostro costante impegno nella promozione turistica, il nostro è un territorio bellissimo, abbiamo veramente di tutto, la storia, l'arte, il mare, la montagna, abbiamo veramente tutto, non ci manca nulla e voi da anni ormai portate avanti dei grossi progetti di promozione turistica, gli itinerari della bellezza e qui si parla veramente di bellezza, Amerigo. Sì, diciamo che ConfCommercio crede fortemente da sempre che il turismo possa essere la leva fondamentale di sviluppo economico per la nostra regione, per il nostro territorio, insieme al manifatturiero di qualità, insieme all'innovazione, al design, il turismo è un motore di sviluppo economico, anche perché è l'unico settore probabilmente trasversale, lo sviluppo del turismo aiuta il commercio, aiuta i servizi, aiuta l'artigianato, aiuta l'industria, pensiamo anche all'industria che produce manufatti per il mondo del turismo, penso ai mobili, penso ai letti, penso agli arredi, quindi lo sviluppo del turismo è essenziale per lo sviluppo economico della provincia. Noi già nel 1994, primi in Italia, abbiamo creato un tour operator di proprietà nostra che fa incoming per le marche, all'epoca non c'era nessuno che faceva incoming, tutte le agenzie di viaggio vendevano i viaggi, ma nessuno che facesse incoming per il territorio, quindi è stata un'invenzione che noi abbiamo fatto e oggi ancora con Riviera incoming che è il nostro tour operator, operiamo sui mercati nazionali e internazionali, anzi recentemente abbiamo anche sviluppato un accordo con una importante software house italiana per affrontare il nuovo tema che è quello del commercio online, dell'e-commerce, sviluppando un accordo con una piattaforma che ci consentirà veramente di essere visibili e commercializzare in tutto il mondo. Poi abbiamo realizzato questo progetto itinerario della bellezza che è un progetto straordinario, non dico io perché l'ho inventato, ma è straordinario perché è unico in Italia, ne abbiamo una riprova anche da alcune pubblicazioni che sono uscite a livello nazionale dove l'itinerario della bellezza viene preso ad esempio di una modalità nuova di promuovere il territorio per immaginare uno sviluppo economico sostenibile legato alla valorizzazione dei beni ambientali, dei beni culturali ed enogastronomici. Siamo partiti con questo progetto con 4 comuni, oggi sono 13 comuni che hanno fidato alla confcommercio in toto o in parte l'incarico di essere valorizzati e promossi a livello nazionale e internazionale. L'itinerario della bellezza è un insieme di attività che noi svolgiamo, io dico sempre utilizzando tutti gli strumenti del marketing turistico, cioè a dire guide turistiche, utilizzo del web, dei social, dei blog, delle fiere, della pubblicità, della promozione, delle televisioni, delle immagini, degli education, cioè tutto quello che è possibile mettere in campo per promuovere un territorio e questo ha comportato anche il risultato che anno per anno aumentano le amministrazioni comunali che si affidano alla nostra organizzazione, perché i risultati sono positivi. Perché la cosa importante dell'itinerario della bellezza, Merigo, è il fatto della rete che si fa tra questi piccoli comuni, perché da solo un comune non può promuoversi in Cina, in America o comunque le amministrazioni comunali hanno sempre poco budget, non hanno le persone competenti nel loro staff, quindi affidarsi a una rete e essere parte di un progetto così ampio fa sì che chi viene a visitare Pergola poi va a visitare Gradara, eccetera. Quindi è la forza di questo progetto, è proprio l'interazione e la rete che si fa tra questi comuni. Esatto, brava. E la capacità che abbiamo avuto in questi anni di mettere insieme amministrazioni comunali e anche di estrazioni politiche diverse, eccetera, sta proprio qui. Quindi oggi sul mercato del turismo è impensabile, vista anche la concorrenza internazionale, presentare l'offerta di un piccolo comune, ma anche di un comune solo. Bisogna presentare i prodotti di una destinazione e la destinazione deve essere una destinazione vasta. 13 comuni, ma io spero che il prossimo anno, anzi sono convinto che il prossimo anno saranno anche di più, mettono in campo una serie di offerte, una serie di prodotti straordinari, perché abbiamo l'offerta culturale, abbiamo l'offerta archeologica, abbiamo l'offerta enogastronomica, abbiamo l'offerta sportiva, abbiamo l'offerta di un ambiente in gran parte incontaminato, abbiamo l'offerta balneare, che non dimentichiamo è ancora quella maggiormente trainante nella nostra provincia, in termini di presenze. Noi lavoriamo insieme con questa entità e abbiamo un'attività intensa, perché anche recentemente, se io ricordo solo le cose fatte negli ultimi mesi, due pres tour con la stampa nazionale, abbiamo avuto prestigiosi quotidiani e riviste nazionali che hanno partecipato a nostri pres tour, abbiamo fatto educational con gli operatori turistici, abbiamo partecipato anche recentemente a due fiere importanti, la fiera dei territori di Bergamo e la fiera delle città Unesco a Padova, dove rappresenta anche il Vice Sindaco di Pesaro e anche il Vice Sindaco di Urbino, che sono le due città, una patrimonio dell'umanità, Urbino e città creativa per la musica a Pesaro. Abbiamo realizzato dei video che sono stati pubblicati anche su prestigiosi riviste online di quotidiani nazionali, che non cito per non fare pubblicità, quindi anche i prossimi giorni saremo a Rimini, alla fiera TTG di Rimini, ma già da questa settimana, anzi da domani avremo altri giornalisti ospiti nella nostra provincia, quindi mettiamo in campo tante risorse ed energie e stiamo già lavorando ai progetti del 2022, uscirà e lo presenteremo alla vita a Milano, la prima edizione dell'itinerario moto turistico delle Marche, per approcciare anche il mercato turistico del moto turismo, si parla molto del bike, della bicicletta, sul quale stiamo lavorando in tanti, ma non c'è un prodotto dedicato al moto turismo, che invece riscontriamo in tutta Italia e anche nella nostra provincia, c'è un grande interesse, presenteremo il prossimo anno due itinerari nuovi, che è l'itinerario del silenzio e della fede, che dovrebbe essere pronto per dicembre e lavoreremo per uscire il prossimo anno con l'itinerario di Giovanni Santi, padre di Raffaello, per mettere in rete altri comuni, anche altri comuni che attualmente non fanno parte dell'itinerario della bellezza, ma che io spero, grazie anche a questa iniziativa, possono entrare in rete con gli altri comuni. Tu dicevi che il piccolo comune non ha né le risorse né il personale, le risorse umane adeguate, io credo che nessun comune dovrebbe fare promozione per conto proprio, nessun comune è in grado di farlo, perché non è quello che viene richiesto dal mercato, il mercato richiede una vasta opportunità, il turista oggi vuole vedere tutto di una destinazione, vuole immergersi, vuole vivere emozioni e quindi magari un giorno vuole andare a vedere una cantina, il giorno dopo vuole andare a vedere un centro spirituale, per questo che per esempio stiamo pensando a inserire anche in alcuni dei nostri itinerari, anche delle località che sono al di fuori dalla provincia di Peso Rubino, ma che possono risultare attrattive anche per la nostra provincia. Sì, anche un turismo religioso che c'è nelle Marche. Il riferimento era proprio quello. Insomma, io penso che quando arrivano voi ospitate questi giornalisti nazionali, internazionali nel nostro territorio, tutti vanno a casa con un bagaglio, una valigia piena di sapori, di profumi, di prodotti tipici, di opere artistiche incredibili. Come si fa a non scrivere bene del nostro territorio? Il nostro territorio è un'eccellenza, in generale tutta la nostra regione Marche. Il problema è che in tanti anni magari non è stata comunicata al meglio all'estero oppure anche in Italia stessa. Quindi grazie a questo lavoro che fate, soprattutto anche voi nel nostro territorio, date la possibilità di farci conoscere in luoghi che magari non sanno neanche che esistiamo. Quindi veramente è un bellissimo lavoro di promozione turistica questo che fate. Faccio un riferimento ad una battuta di una notissima giornalista nazionale, di un quotidiano prestigioso che è venuta a Pesaro per questo nostro press tour, ha visitato i musei civici di Pesaro e di fronte alla pala dei Bellini ha detto che questo è uno dei motivi per venire, basterebbe questo come motivo per venire nelle Marche e così potrei dire di altri giornalisti quando hanno visto il museo dei bronzi dorati di Pergola. Quindi abbiamo delle eccellenze assolute, dobbiamo comunicarle di più e comunicarle meglio. Questo è un po' il nostro compito, quello che tentiamo di fare anche agganciandoci a quella che è la promozione, le iniziative che fa la Regione Marche, ma spesso con prodotti nostri, cioè con decisioni nostre. Ci sono molti che partecipano alle iniziative fieristiche organizzate dalla Regione Marche, noi facciamo questo ma facciamo anche cose nostre, cioè noi andiamo anche dove non c'è la Regione, nel senso che riteniamo che bisogna veramente mettere in campo tante risorse, tante energie per far conoscere il nostro territorio. Fare conoscere il territorio vuol dire sviluppare attività economiche, vuol dire fare nascere nuovi alberghi, nuovi ristoranti, nuovi bed and breakfast, dare maggiori opportunità alle attività commerciali, fare lavorare le cantine che producono vini di grande qualità, quindi il turismo e la promozione turistica e propedeutica allo sviluppo economico del territorio. E questo è il nostro impegno al quale siamo veramente impegnati, come si dice, H24. Sì, è vero. Allora, Amerigo, non raccontiamo adesso tutti gli impegni perché poi avremo un altro appuntamento il prossimo mese dove racconteremo tutti gli altri impegni anche avvicinandoci poi alle Fiere del Tartufo, al Natale e a tutte le altre iniziative che ci saranno i prossimi mesi. Amerigo, io ti ringrazio, grazie come sempre per il tuo intervento qui nei nostri studi e auguro a tutti voi una buona serata.